aleandro baldi oggi il motivo del risentimento verso andrea bocelli aleandro baldi il cantante non vedente toscano conosciuto all'anagrafe come aleandro ci vai è oggi una figura un po' dimenticata del panorama musicale italiano nonostante i suoi successi passati nato a greve in chianti in provincia di firenze 65 anni fa baldi continua a vivere lì senza mai essersi sposato o aver avuto una compagna la sua carriera musicale è indissolubilmente legata alla partecipazione a due edizioni del festival di sanremo dove ha ottenuto grandi riconoscimenti nel 1992 baldi si classificò al primo posto nella categoria nuove proposte in coppia con francesca lotta grazie al brano non amarmi due anni dopo nel 1994 vinse nella sezione campioni con la canzone passerà la carriera di aleandro baldi nonostante questi importanti successi a sanremo la carriera di aleandro baldi non è mai veramente decollata a livello internazionale dopo le vittorie al festival la sua presenza sulla scena musicale è andata via via affievolendosi e il cantante è scomparso dai radar del grande pubblico tuttavia baldi non ha mai smesso di comporre canzoni e continua a dedicarsi alla sua passione per la musica il risentimento verso andrea bocelli una delle ragioni per cui aleandro baldi nutre un certo risentimento verso andrea bocelli è la percezione di essere stato messo in ombra dal successo globale di bocelli baldi ha espresso il suo disappunto in un'intervista alla verità in cui ha spiegato come secondo lui la commissione di sanremo preferisse bocelli a lui la commissione di sanremo deduceva questo noi a sanremo vorremmo bocelli aleandro non ha fatto successo nel mondo e quindi non lo vorremmo ha detto baldi questa preferenza per bocelli sarebbe dovuta al fatto che bocelli ha ottenuto un enorme successo all'estero diventando una figura leader tra i cantanti non vedenti la percezione del pubblico e la tristezza nelle sue canzoni baldi ha anche riflettuto sulla natura delle sue canzoni e su come queste abbiano influenzato la sua carriera probabilmente ho avuto canzoni che mi davano come un personaggio triste allora tutti possiamo essere tristi ma forse la gente da me non voleva sentire la tristezza ha detto secondo baldi la percezione del pubblico di lui come un personaggio triste potrebbe aver contribuito alla sua mancanza di successo duraturo nonostante queste sfide baldi continua a dedicarsi alla sua arte e a comporre musica mantenendo viva la sua passione nonostante le difficoltà incontrate lungo il cammino aleandro baldi con il suo talento e la sua storia personale rimane una figura importante nella musica italiana sebbene la sua carriera non abbia raggiunto le stesse vette di quella di andrea bocelli baldi continua a creare musica e a vivere nella sua amata greve inchianti il suo risentimento verso bocelli è comprensibile ma non offusca il contributo significativo che ha dato alla musica italiana ti è piaciuto il video iscriviti al canale metti un like e attiva la campanella